Uccideresti questi insetti se li trovassi in casa tua? Partiamo dal presupposto che io lo farei con tutti Lascia like e iscriviti per iniziare Andiamo Ok, iniziamo con la zanzara Assolutamente sì, sono gli insetti più spreggevoli e inutili sulla terra Che cos'è questo mostro del void? No raga, no raga Assolutamente Dio mio! Sta roba non deve esistere Una roba del genere io ti do le chiavi di casa Non è che la uccido perché neanche mi ci avvicino Le mosche sono molto difficili In realtà dipende, dipende A me danno fastidissimo Fastidissimo Sì, le vespe, le api Ti pare che le lasci in casa mia se entrano No, loro non uccido Quelle di prima loro mi sa di sì E voi?